Come comunicato dalla Regione, la stagione estiva nelle Marche partirà il 1 maggio. Quindi i bagnini e i titolari degli stabilimenti balneari sono già al lavoro da qualche giorno e da qualche settimana per iniziare i lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari e lungo le spiagge. Bagnini e i titolari di stabilimenti balneari che nel frattempo sono in attesa di ricevere le conferme per quanto riguarda le misure di sicurezza previste appunto per le spiagge anche pesaresi. Noi abbiamo iniziato un po' prima per la questione del tempo. Ci siamo presi un po' più di tempo. Abbiamo incominciato a lavorare a marzo con le belle giornate e adesso siamo a un buon punto. Cerchiamo di fare il prima possibile per essere punti per il 1 di maggio. Abbiamo già fatto qualche lavoretto di manutenzione della spiaggia come ogni anno come la pittura dei capanni, la ristrutturazione dei tetti, sempre del capanno. Quest'anno abbiamo cambiato il colore ai gazebi. Ogni anno noi facciamo sempre qualcosa di nuovo per i nostri clienti. I lavori sono già stati iniziati da diversi giorni, adesso interrotti un po' dal maltempo. Siamo molto premurosi e impazienti di cominciare la stagione perché comunque è troppo tempo che l'Italia è ferma e quindi noi siamo, ritengo, un po' tra i privilegiati di questa situazione negativa. Stiamo provvedendo alla verniciatura, ripareremo tutta la pedana nuova di tutto il bar ristorante e poi la prossima settimana inizieremo a portare giù la sabbia, pulirla e iniziere a mettere giù ombrelloni, lettini e speriamo di essere pronti per il 2 di maggio. Servizi, tanto bisogna garantire tutta la sicurezza di norma anti-covid, distanziamenti, anche ristorazione con distanziamenti di un metro, tutto, mascherine. Speriamo di essere pronti e di garantire i servizi al massimo. Per quanto riguarda le linee guida di anno scorso, noi siamo già preparati, abbiamo visto che ha funzionato, ha funzionato tutto bene, chiaramente chiediamo molto anche la collaborazione del pubblico perché è fondamentale che siano responsabili in questa situazione, altrimenti non bastano le nostre attenzioni. Come stagione balneare noi non siamo mai stati pronti per il 1 maggio, noi siamo sempre stati pronti come ristorante, bar e abbiamo dato un attimino di disponibilità per la spiaggia ma la situazione, la struttura completamente organizzata per la spiaggia ancora non siamo pronti anche perché dobbiamo aspettare i ripascimenti, quindi saremo parzialmente preparati. Per i ristoranti invece non c'è problema e aspettiamo un attimino anche le direttive perché siamo un po' incerti di come procedere sia per il periodo sia per le linee guida. Speriamo che non arrivino all'ultimo momento perché anche noi abbiamo bisogno di organizzarci. Attendiamo le normative ma spero che saranno come quelle dell'anno scorso, le restrizioni saranno sempre dei 10,5 metri quadri per l'ombrellone. Hanno chiesto di ridurlo a 10, speriamo che accolgano questa richiesta. Parlando con la gente, la gente ha una gran voglia di uscire e di ricominciare a vivere, tra virgolette. Ho un sacco di richieste per luglio-agosto da fuori regione, quindi penso che sarà un'estate come l'anno scorso, con più controlli. Credo che sarà una stagione come quella dell'anno scorso, io penso che tutti i piazzarelli, tutta la gente abbia voglia di andare al mare che dopo un anno di stare chiusi dentro a casa abbiano voglia anche di uscire e speriamo che sia una bella stagione come l'anno scorso e che si lavori, che lavori in tutti più che altro.